Alessandro Siani mette le mani su Mare Fuori, porterà la serie tv teatro l'attore napoletano pronto a fare il suo scugnizzi.Secondo i rapporti di chi, Siani ha acquisito i diritti per portare Mare Fuori al teatro debutto previsto Natale. Di Andrea Parrella Mare Fuori è un successo che vuole placare, al contrario, l'ambito del fenomeno si sta espandendo giorno dopo giorno.La quarta stagione vedrà la luce nei prossimi mesi, con le riprese a partire da maggio, ma non è l'unica novità all'orizzonte per i fan della serie Rai.Alessandro Siani mette le mani sul titolo, che sarà nel cast della serie tv, come si potrebbe immaginare, ma ha acquisito i diritti per portare Mare Fuori a teatro. Se a Fuori a teatro, debutto in programma per Natale la notizia è stata segnalata da The Weekly Key, che scrive l'attore e il regista acquisito, insieme a un amico imprenditore, i diritti di portare al teatro lo spettacolo nato dalla serie televisiva da record Mare Fuori. Quarta stagione di Mare Fuori, gira a maggio nel frattempo, Fuori si sta dirigendo verso la quarta stagione.Un fenomeno diventato tale con terzo capitolo. Una risposta arrivata anche grazie alla combinazione RaiPlay Netflix.La serie è in effetti un prodotto Rai. Ma grazie al passaggio della scorsa estate su Netflix ha ampliato enormemente il suo pubblico. Non un caso questo inverno Rai abbia offerto esclusivamente i nuovi episodi della terza stagione sulla sua piattaforma digitale.La terza. Stagione di Mare Fuori sarà disponibile esclusivamente su RaiPlay fino al 26 luglio quando, in base agli accordi tra le due società, passerà direttamente a Netflix.Strategia si rivelata redditizia per entrambi gli attori e probabilmente verrà ripetuta per quarto capitolo di Fuori.